Si chiama Cappphito Easy, interamente in alluminio anodizzato, è il primo strumento al mondo capace di produrre autonomamente una capsula di caffè in pochi semplici passi. Si prende la capsula, l'imbutino, si prende il caffè macinato che si desidera, il tappo diventa un pressino e si pressa come al bar. A questo punto togliamo l'imbuto, apriamo il caffito, mettiamo la nostra capsula, la foglia di alluminio senza colle, senza adesivi, due passaggi semplici, si pressa, si alza e la capsula è pronta. Il brevetto europeo lo hanno ideato Roberto Mei ed Elisa Villa, marito e moglie. Lui ex venditore di componenti elettronici, lei insegnante di caffetteria e sala bar. Ora soci in questa avventura che le ha portati pochi giorni fa a Parigi a vincere la medaglia d'oro nel prestigioso concours Lepin, riconoscimento internazionale che dal 1901 premia l'inventiva. Sono andato alla ricerca di una capsula in polipropilene alimentare, poi l'ho riempita di caffè macinato, mio preferito. Abbiamo pensato come la chiudiamo questa capsula ed è lì nato il problema. Il sistema è nel rigirare l'alluminio in modo meccanico, in modo che l'alluminio viene ribordato sul bordo della capsula senza colle e senza adesivi. Ad accompagnare Roberto ed Elisa in questo progetto la Camera di Commercio di Torino. La produzione di caffito è tutta in Piemonte. In ogni capsula vanno 5,5 grammi di caffè ma in realtà si possono riempire anche con tè, orzo, tisane, ginseng e altri aromi. A far vincere la medaglia d'oro, soprattutto la sostenibilità con un riciclo totale dei materiali. Dopo aver preparato il caffè la foglia di alluminio verrà comunque reciclata, il caffè verrà buttato nell'organico oppure potrebbe essere utilizzato come fertilizzante per le piante e la capsula invece verrà lavata e riutilizzata. Massimo Postiglione, Sky TG24, Torino.